come ti chiami pietro fulvio domenico quanti anni hai undici nove e mezzo sette otto che vuoi fare da grande il pompiere il calciatore il pasta e cera il poliziotto il pizzaiolo perché voglio costruire la casa dei miei sogni perché mi piace inguaggiare salvo le persone che mi piace e lei è martina che ti piace di lei gli occhi mi piacciono le sue scarpe le sue bali le e ora falle una carezza falle una boccaccia e ora dalle uno schiaffo uno schiaffo forte uno schiaffo dai no no ce la do no 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 e perché no perché le femmine non si picchiano perché così si fa male e perché Gesù non vuole far picchiare prima cosa è bellina e non glielo posso dare perché è una ragazza perché sono contro la violenza se anche le donne non si dovrebbero toccare nemmeno con un fiore e perché è brutto oppure con un maccio di fiori se anche il tickets perché è successo e perché è una ragazza perché loro sono contro la garzza e se la città è vero e si fa male e sono contro la faccia da parte della garzza e che sono contro la garzza e il russi e la rimanere con un mattino non lo fa è la posso dare sulla bocca o sulla guancia? sorts di Opening Uno schiaffi